Presidente Cirio, come sono stati questi primi giorni di zona gialla per il Piemonte, invece per quanto riguarda la provincia di Cuneo, oggi è il secondo giorno? Oggi è il secondo giorno di zona gialla, la zona gialla vuol dire ripartenza, la ripartenza vuol dire che dobbiamo essere felici perché le attività riprendono e se non riprendono le attività non riprende la vita perché la crisi sanitaria porta con sé una crisi economica che non può essere sottovalutata. Nello stesso tempo noi dobbiamo vivere la zona gialla lavorando di più ai vaccini ed è quello che il Piemonte sta facendo, ieri ho ricevuto questa telefonata dal Presidente Draghi, ieri sera alle 7 che si congratulava con il Piemonte per il risultato raggiunto e per me è stato un gesto di orgoglio importante che condivido con tutte le aziende sanitarie, i volontari, i medici in pensione, i vaccinati anche, tutte le persone, i 47 mila che ieri hanno avuto la vaccinazione, ma la cosa importante è che la macchina del Piemonte funziona, i numeri lo dimostrano, se ci danno la benzina in pochi mesi vacciniamo tutti. Sì, tra l'altro il Presidente Draghi le ha detto le facce complimenti e lo faccia sapere. Sì, ha detto una frase che mi ha fatto piacere oltremodo, anche perché io ho conosciuto il Presidente Draghi negli anni di permanenza a Bruxelles. Draghi è una persona di poche parole e di grande sostanza e quindi il fatto che abbia voluto dirmi di far sapere il suo livello di soddisfazione per come il Piemonte si stava comportando, tanto sui vaccini ma anche su questa missione, non dimentichiamo che in India si sta vivendo una tragedia umanitaria enorme perché le persone hanno necessità di ossigeno, manca l'ossigeno. Noi come Regione Piemonte abbiamo ricevuto la richiesta del Governo italiano e della Commissione europea di mettere a disposizione il nostro impianto, la nostra equip proprio per aiutare l'India e il Piemonte ha risposto come sempre presente e quindi la prossima settimana partirà questa missione del Governo italiano ma l'ossatura, il cuore sarà un cuore più amatissimo. Allora, il Governatore del Piemonte cosa si sente di dire ai piemontesi? I passati in zona gialla ovviamente allenta le restrizioni, però dall'altra parte chiede sicuramente ancora più responsabilità da parte dei cittadini. Io chiedo responsabilità, dall'altra parte come tutti possono vedere noi garantiamo un'accelerazione fortissima sui vaccini, se ci daranno i vaccini dentro l'estate noi avremo vaccinato tutti. Chiedo anche al Governo italiano un buon senso più profondo su alcune norme, su alcune misure, se la pandemia lo permetterà di rivedere al più presto la norma sul coprifuoco perché diventa difficilmente comprensibile, così come il mangiare all'aperto. Io capisco che la somministrazione all'aperto guardia una logica sulla pandemia, però rischia di essere una valutazione di tipo latitudinale, se vogliamo, cioè di che tempo fa, che invece rispetto a quelli che sono i contagi effettivi. Mi spiego meglio. Se la Sicilia avesse più contagi del Piemonte, la Sicilia continua a far mangiare fuori perché fa caldo, nel Piemonte mangiare fuori è impossibile, specialmente in questo periodo, ma nelle nostre montagne Piemonte si fatichia a mangiare anche la Uglio. Per cui che le norme abbiano sempre buon senso, perché col buon senso la gente se capisce la logica le rispetta di più. Per chiudere, visto che ci troviamo nel Palazzo Comunale di Racconi, c'è stato questo motivo di incontro per parlare della ripartenza racconigese, della zona ex nero, del castello, insomma cosa ci può dire? Mi posso dire che siamo venuti qua innanzitutto a dire quello che abbiamo fatto, sono felice anche dei ringraziamenti che il Sindaco di Racconigi ha rivolto a me, alla Regione. Noi abbiamo finanziato per 10 milioni di euro i sottopassi della ferrovia di Racconigi, che sono un problema vitale di vivibilità urbana per chi vive in questa terra e per chi la attraversa, che non. Abbiamo finanziato per 3 milioni di euro la scuola e quindi un altro segno di attenzione concreto e tangibile per i bambini. E oggi dobbiamo lavorare a recuperare quest'area, quest'area dell'ex malincomio di Racconigi, che è un'area gigantesca di cui si è parlato tanto ma di cui si è fatto ben poco. Allora oggi è il momento di agire, i soldi del recovery da una parte, la sensibilità rinnovata della importanza di investire su strutture sanitarie, io credo possano essere la chiave di lettura per davvero partire concretamente a dare una destinazione a quell'area. Che metodo? Con una commissaria adatta, che io chiederò di nominare all'interno dell'azienda sanitaria locale CN1, perché possa dedicarsi, mettendo la sede all'interno del Comune, il Sindaco ha già dato l'autorizzazione, a costruire questo gruppo di lavoro che in pochi mesi possa avere idee chiare su cosa fare in quell'area. Per chiudere, lei prima ha detto una frase simpatica che mi sono annotato, parlando ovviamente delle realtà piemontesi, i castelli della Loira ci fanno un baffo? Ce ne fanno anche due, nel senso che sono mille volte più belli i castelli piemontesi dei castelli della Loira, forse in Francia hanno saputo promuoverli meglio, ma adesso arriviamo anche noi, perché se noi Racconigi lo mettiamo insieme a Stupinigi, lo mettiamo insieme a Venaria, e poi ci colleghiamo ai castelli delle Langhe e poi arriviamo alle ville del Lago Maggiore e voglio vedere quale pezzo di Francia ha questa realtà, nessuno. Quindi la Francia ci fa un baffo.